buongiorno a tutti da rimini e abbiamo ripreso le dirette del furgone sono mirko zullian vi sono finiti tutti i vari bagordi ho ripreso a lavorare quindi ripreso anche le mie consuete dirette dal furgone intanto che aspettiamo che arriva qualcuno allora oggi parliamo di system for x che è diciamo così il mio il mio argomento principale sulle dirette perché comunque è un sistema che ho ideato e creato proprio per cercare di far lavorare tutti veramente al meglio è un qualcosa veramente semplice che però comunque molti non sfruttano molti non non conoscono i vari aspetti e qui facciamo in modo di farvi riconoscere di darvi del materiale e quant'altro adesso vi spiego tutto un attimino quando parte qualcuno anche quando arriva qualcuno che almeno non parlo da solo ma parlo con con qualche con qualche interazione entrato giuseppe ciao giuseppe buongiorno aspettiamo che arriva qualcun altro magari così riprendiamo un po la routine delle dirette che insomma quando ci si può mettere la faccia si può fare tranquillamente con con un sistema valido allora giuseppe come sono andate le vacanze lavorato divertito mangiato non so neanche se si sente appunto mi viene il dubbio giuseppe mi senti ci sei allora io spero che ah ok no non so non capivo se se si sentiva o meno tutto qua bene allora stavo sperando che entrasse qualcun altro per purtroppo ammalato no carica miseria spero spero solo qualche piccolo male di stagione che dai ho visto che colpisce ha colpito anche molto qui a rimini soprattutto sul lavoro abbiamo avuto un un bel po di persone a casa influenzate comunque senza aspettare adesso sono facciamo troppo tardi allora il partiamo un attimino col di scrivere un po system for x che secondo me dobbiamo già partiamo dall'inizio e poi vediamo come come funziona come come funziona tanto chi vorrà vedere questo video lo vedrà anche registrato non c'è problema allora system for x è un sistema come ben detto molto semplice si basa sulla creazione della rete e si basa sulla pubblicità tutto tutto quello che vi viene offerto da system for x è senza costi l'unico diciamo così l'unico piccolo costo che ci potrà essere è quello riguardante il business che è in allegato perché il system for x non è un business ma è un sistema di lavoro vi viene dato tutto quello che serve per lavorare ma si vuole comunque un un business collegato in questo caso è entrata giusy giusy vuoi trasmettere in diretta e allora adesso ti apro anche a te aspetta che facciamo tac perché allora non capisco se ci sei se non ci sei va bene andiamo andiamo avanti allora dicevamo che system for x è un sistema semplice di e che si basa quindi sulla creazione della rete e sulla pubblicità si appoggia a un business che è quello che ci porta poi il guadagno il business che abbiamo scelto è un business di strumenti digitali quindi una piattaforma digitale che è tra le migliori in assoluto nel web è sostenibile e pagante e sostenibile perché comunque ha una percentuale di rientro ed è pagante perché posso garantirlo personalmente che in diversi mesi con l'utilizzo ha sempre pagato puntualmente su paypal ogni settimana ciao giusy avevo visto la tua richiesta di entrare in diretta ma non dopo mi si è bloccato il video spero che non so che qui se c'è mi è rimasta l'immaginina là in alto va bene dai e quindi abbiamo detto che si appoggia a un business tutto quello che viene dato da system abbiamo detto che è free quindi senza spese viene dato vengono dati due funnel in questo momento poi ci sarà un terzo che sarà in uscita dai primi dell'anno quindi primi di gennaio ci sono due sequenze mail e la terza poi uscirà insieme all'altro funnel ci sono un file con ho creato un file con tutte le liste di gruppi su cui andremo poi a fare la pubblicità divisi giorno per giorno quindi c'è un file directory a molto ampio in maniera tale che lavorando come vi verrà detto sarete visibili in oltre 150 gruppi quindi avere una visibilità su oltre 150 gruppi vuol dire che raggiungi si raggiungono milioni di persone e da questi comunque arrivano persone a far parte della tua rete possiamo fare direttamente possiamo lavorare già dai primi giorni perché comunque ciao luca buongiorno è entrato anche matteo ciao matteo buongiorno possiamo fare veramente tantissime cose possiamo insomma con il nostro business che è build a role possiamo poi modificare i funnel possiamo modificare le sequenze mail possiamo crearne di nuove possiamo lavorare anche in maniera diversa rispetto a quella che insomma agli strumenti che vi veniamo che vi diamo a dare quindi volete crearvi un vostro funnel liberissimi insomma non mettiamo dei paletti non mettiamo dei limiti l'unica cosa che purtroppo essendo comunque tutto free essendo comunque un programma bisogna lavorare e avere la costanza e la determinazione in questo periodo particolare di prelancio stiamo agendo in maniera tale da poter rimborsare l'entrata di build a role quindi la prima entrata in build a role quindi lavorando praticamente gratis 30 giorni e in quei 30 giorni lavorando in maniera costante e assidua sicuramente ci si riesce a creare già una base di rete quindi iniziare a crearsi dei collaboratori e questo è molto importante perché poi vi permetterà di poter lavorare con calma e con un pochino più di serenità anche nei mesi successivi perché comunque avrete sempre modo di avere un'entrata diciamo che al momento sta procedendo bene io vedo che per esempio dalla mia pubblicità sono arrivati circa 20 persone iscritte direttamente e altre 90 più o meno nelle liste continuano a chiedere informazioni ho avuto purtroppo ho fatto una settimanina e mezza di ferie quindi non ho potuto seguire bene tutte le persone però da oggi che ho ripreso il 110% iniziamo comunque a parlare a vedere a relazionarci con le altre persone che hanno bisogno di avere informazioni di sapere meglio questo discorso quindi praticamente noi abbiamo creato un qualcosa a zero costi cioè a zero rischi perché comunque anche dove c'è un costo che è Builderall vi viene rimborsato o vi viene rimborsato addirittura per alcune persone che si conoscono che magari c'è stato un rapporto lavorativo o di amicizie per carità si può anche eventualmente anticipare ciao Tiziana benvenuta quindi abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a lavorare al 100% dobbiamo solo creare quello che è ecco conferma anche Giussi conferma l'interesse che ha avuto qualche giornata piena di chiamate e di insomma di interazioni con altre persone bisogna solo essere costanti perché magari andare a fare pubblicità i primi due tre dieci giorni i primi no dieci giorni i primi primi giorni diciamo così uno due tre magari non si ottiene una risposta perché le persone hanno bisogno di vedere più e più volte il vostro annuncio la vostra quello che può essere il vostro la vostra pubblicità poi man mano che andrete avanti che insomma si seguirà il metodo sempre più persone vi verranno a chiedere informazioni vogliono saperne di più perché in giro diciamo che le opportunità non mancano però ci sono sempre dei costi non indifferenti qui veramente diamo quasi 300 euro di materiale quindi funnel le sequenze mail il supporto i gruppi i post le immagini diamo veramente tutto e da gennaio questo valore sarà ampliato perché ci sarà un altro funnel ci sarà un'altra sequenza mail ci sarà altre immagini altri post già pronti insomma c'è tutto un lavoro dietro da parte mia da parte di giusi da parte di altre persone che sono parte integrante dello staff e non solo perché comunque vedo che anche altre persone danno qualche consiglio e sono sempre ben accetti il tutto per riuscire a creare un movimento favoloso un movimento che da zero rischi arriva a crearsi una propria entrata costante noi abbiamo ipotizzato che possiamo riuscire ad arrivare a 1000 euro nell'arco di 4-5 mesi ed è un obiettivo raggiungibile veramente da tutti non dico 10-15-20 mila euro che riempie la bocca le cifre grosse ma poi alla fine quelli che ci possono arrivare magari sono 1-2 rispetto a 1000-2000-10 mila persone che sono dentro un team noi qui invece vogliamo proprio raggiungere un obiettivo minimo per tutti o comunque per il 90% quello che può essere chi ha voglia di mettersi in gioco può farlo può farlo e può raggiungere dei risultati prima magari piccolini e poi man mano crescere ok detto questo vediamo che avrebbero fatto perché siamo già quasi al limite allora partiamo diciamo un'altra cosa la settimana prossima riprendiamo con i webinar quindi venerdì prossimo ci sarà un webinar dovrebbe essere il 6 domenica il 6 il 5 il 4 dovrebbe essere il 4 gennaio quindi iniziamo a segnarci questa data inizieremo a fare anche delle riunioni per quanto riguarda il discorso mi è arrivato un messaggio e mi ha tolto il filo del discorso faremo delle riunioni interne quindi parleremo con i vari membri per capire quello che ci può essere insomma che possa essere successo che abbiano magari intenzioni di insomma noi diamo anche il supporto e quindi dando il supporto sicuramente anche a persone che non sono nella nostra rete perché ho diverse persone all'interno del sistema che non sono nella mia rete e neanche quella dei miei collaboratori diretti quindi noi non ci andiamo a guadagnare niente però lo stesso abbiamo dato in mano tutto il sistema tutte le varie cose e facendoli lavorare tranquillamente noi non ci andiamo a guadagnare un centesimo è ovvio che se noi creiamo la rete creiamo l'effetto tsunami creiamo il movimento quello determinante è ovvio che andiamo a guadagnare indirettamente ma noi ci andiamo a guadagnare quando voi quindi gli utenti che sono dentro iniziano già a guadagnare iniziano già a lavorare come non è che siamo lì come gli avvoltoi assolutamente anzi tutto il contrario niente per oggi vi ringrazio e vi saluto da una rimini nebbiosa abbiamo ripreso ci sarà anche probabilmente domani un'altra diretta e poi probabilmente se avete bisogno di qualsiasi cosa ci possiamo sentire tranquillamente in serata per ulteriori informazioni e contatto anzi per avere ulteriori informazioni contattatemi che vi posso passare il primo webinar che abbiamo fatto dove è spiegato tutto da la alla z o se andate a guardare nel mio profilo c'è una diretta che ho fatto poco prima di Natale dove anche lì abbiamo spiegato moltissime cose è un pochino più ristretto perché era una diretta però già ho detto parecchie cose quindi non stiamo lì a pensarci perché tanto non ci sono rischi l'unica cosa è che se vi mettete in moto e volete fare qualcosa di buono dovete metterci l'impegno perché noi comunque andiamo a investire il nostro tempo per aiutarvi se non avete voglia di aiutare voi stessi inutile che ci mettiamo noi ad aiutare voi quindi forza iniziamo a lavorare al meglio chi ha bisogno contatti chiami 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 se no non possiamo sapere che avete bisogno ok ciao a tutti e buona giornata spero che sia un po' meglio rispetto a quella che c'è qua a Rimini ok a domani